Gym Class Hero, qui a Fattino Lombardia abbiamo lo studio pieno di ospiti, di direttore, buongiorno. Ci sono io in più, è normale. Sono un po' largo, occupo un po' più di spazio, ma non è mica... Grasso direi. No, non glielo dico che fa sempre le scalapede. Presenta l'ospite donna, quel signore lì fai finta che non esista. Lo ignoriamo, non puoi esordire così. Guarda che si è inclinata la telecamera come inquadrato. Allora diamo il benvenuto ai nostri ospiti, Nadia Giorgio, buongiorno, scrittrice, giornalista, Roberto Caputo, che a Milano conoscono tutti ormai, hai loro. Da molto tempo. Ma non in veste di scrittore, da qualche anno però ci delizia, devo essere sincero, perché a me i libri di Roberto e Nadia piacciono, ci sono questi noir ambientati in città, a me piace come due cose. Piacciono i gialli e in modo particolare i gialli ambientati è Milano. Perché secondo me, e questa è la prima domanda che faccio tutte e due, dai gialli, da queste storie, si comprende meglio Milano. Cioè io in tutti questi anni, penso anche a un altro collega amico, Colaprico, piuttosto che Biondillo, leggendo i libri... Vecchi amici. Questi romanzi, come dire, il cambiamento della città è più avvertibile che non tante volte nella cronaca o nella storia quotidiana. E anche nei vostri libri, secondo me, c'è questa Milano che cambia. Chi risponde? No, è perfettamente ragione. Innanzitutto chiediamo una cosa, non è un giallo, è un noir. C'è una differenza, nel senso che... Spichiamola, è vero, perché spesso si fa questa... Il giallo ha una scaletta ben definita, diciamo, pensate a Migret, a Simenon, ecco, questo è il giallo tipico. Agatacristi. Agatacristi, eccetera, eccetera. Questo è il giallo tipico, quindi con l'indagine, con i risvolti, tutti i sequenziali. Adesso, siccome sono preparato il noir, invece è Chandler, direi io, sul genere di... Il noir, esatto, il noir è altra cosa, il noir è altra cosa che nasce un po' da Scerbanenko, diciamo, che è un po' il maestro milanese del noir e ha dei risvolti più, diciamo, più realistici, nel senso che c'è molta, sono molti omicidi, può essere c'è molti omicidi, ma anche uno solo, però è il sangue, c'è molto sangue, c'è molto sesso e... E perché ride? No, rido perché fa parte del noir. La specificità del duo è il sesso, nel senso no, nadie ride però, il romanzo scorso... E poi anche non esserci l'indagine, nel senso che anche spesso e volentieri è molto psicologico, i nostri sono psicologici, diciamo, e questo qui fa parte di una trilogia, cioè lo stesso personaggio che è il commissario Marco Ferrari, prima è uscito Cena con delitto, poi la punizione l'anno scorso e questo è in apnea, e già il titolo dice tutto. Ecco, chiedo, nadie invece, il titolo come è arrivato? Perché so che chiedevate tempo fa, come dire, sui social network, un'idea di titolo, scherzando e ridendo, però... In apnea viene da un'immagine, è presente quando si è sott'acqua, si sta risalendo verso la superficie e si guarda in alto, si vede l'acqua, la fine dell'acqua, la luce, e tu ti attieni al respiro con tutte le tue forze, cercando di risalire su. In questo libro ogni personaggio dovrà risalire su, dovrà compiere quella che io definisco l'emersione, e per arrivarci dovrà fare un percorso interiore molto importante. Aggiungo un'ultima cosa su Milano, il libro è una trilogia, questo è il terzo punto, e fa parte di una collana, I luoghi del delitto, che è una collana della Robin Edizione, che punta proprio su questo, cioè far scoprire una storia, una trama dei personaggi attraverso lo sguardo alla città, quindi alle vie, ai locali storici, noi l'abbiamo fatto in tutti e tre i libri, in questo c'è una piccola differenza, secondo me, in questo abbiamo puntato molto a dare un'immagine, a dare l'immagine della Milano che sta cambiando, Milano in questi anni, soprattutto negli ultimi due, ha fatto dei passi da gigante, in alcuni aspetti. C'è un pezzo del libro in cui parla proprio dell'area nuova che va da Piazza Gaolenti, a Corsocomo, a Moscola, questa qui dietro da noi. Esatto, no? Quindi non solo i cortili storici, i palazzi, le case antiche, ma i grattacieli, i grattacieli che si stagliano, per cui è proprio un'immagine di contrapposizione. E poi c'è la metropolitana. E poi c'è la metropolitana, perché il ritmo del libro è scandito dalle fermate della metropolitana. E il vostro personaggio, quanto è milanese? Questo ti risponde lui, perché Marco Ferrari è più lui. Sì, infatti, Marco Ferrari è assomiglia anche, infatti, quando leggo il libro un po', la mia fantasia viene interrotta, perché penso... Ferrari è un figacione, lui no? Cioè, gli assomiglia. Però lui vorrebbe essere così. Credo che sceglierò un'altra coautrice per il prossimo libro, per la prossima trilogia. Sì, per la prossima trilogia, perché ormai, se hai rotto questo dodo con questi insulti nei miei confronti. No, Marco Ferrari è il tipico milanese. È il milanese che vive tutti i risvolti di questa città, positivi e negativi. Gira per questa città, se la gode, ne soffre, ne conosce il bene e il male. e poi è molto tipicamente anche come ragiona, è tipico di Milano. Adesso faccio la domanda tra bocchetto. Roberto Caputo, quindi il sottolineo Caputo, perché i pugliesi sono così milanesi? Cioè, sono i più milanesi di tutti? Io sono nato a Milano. Fa niente, però questa cosa qua mi ha sempre, cioè, perché, sono più milanesi di milanesi. Perché forse la Puglia è quella più vicina. piuttosto che c'è l'origine di teoccoli, Battantuono. Battantuono, sì. Beh, perché forse è una regione che si lega molto alla nostra città e quelli che sono venuti qua 50 anni fa si sono molto integrati e quindi hanno vissuto questa Milano come la loro seconda patria, insomma. Adesso discutiamo Pitbull e poi torniamo a parlare del libro Inapnea, Noir, sottolineiamo Noir, di Roberto Caputo. E Nadia e Giorgi, poi, quando riprenderemo la chiacchierata, voglio sapere di più. Quando lo presenteremo. A parte diremo quando lo presenterete, dove, come, quando, ma sulle tre carte dei tarocchi lasciate sulla scena del crimine. Adesso c'è Timber featuring Keisha con Pitbull, qui a Mattina Lombardia.